Una bizzarra appendice, il velocipete. C'è anche chi, nella seconda parte dell'Ottocento, viaggia con maggiore fatica, sollevando meno polvere e facendo molto meno strepito. Esemplare risulta in questo senso An Italian Pilgrimage del 1885, in cui gli americani Joseph Pennell ed Elisabeth Robbins, narrano il loro singolare viaggio nel cuore dell'Italia attraverso la Toscana, l'Umbria e il Lazio, con un monumentale triciclo a due posti e portabagagli, antesignano della bicicletta. Il triciclo si presenta sin dall'inizio come uno straordinario generatore di storie. Infatti, la sua comparsa sollecita curiosità e meraviglia. Viaggiare in Italia con il triciclo, che viene spedito col treno dall'Inghilterra, vuol dire stabilire un contatto immediato con la strada, le città, il paesaggio e soprattutto con le persone. Se si escludono i protagonisti rinomati viaggi a piedi, è la prima volta che il viaggiatore straniero si trova gomito a gomito con il campagnolo, il merciaio ambulante, il saltimbanco e il frate cercatore. Egli respira la loro stessa polvere, osserva tutto a rilento, beatamente a rilento, avrebbe detto Raskin, alloggia nelle medesime locande, scambia con loro fugaci impressioni e umilidoni. Annota, con occhio sagace, comportamenti, usi e costumi di quella gente di strada che la letteratura di viaggio non prende in considerazione o che riduce a pittoresche macchiette. Gli incontri con lo spaccapietre che scandisce con la regolarità di una pendola, il silenzio della campagna, o con il villico che in trattoria ignora le posate per adoperare il proprio coltellino, sembrano restituirci un'Italia degna di collodi. Le stesse città sono altra cosa quando vengono osservate con la prospettiva di chi è impegnato a conquistare palmo a palmo sperticate salite, a contrattare per un pasto frugale e un misero letto, a fronteggiare ogni volta l'ignoto in una scapicollante discesa. Il velocipede inoltre mette in risalto, accanto alla forza, all'abilità e alla tenacia, la vulnerabilità fisica del viaggiatore. Come quando Pennell si busca degli atroci dolori reumatici, essendo entrato madido di sudore nel gelido ipogeo dei volumni ai piedi di Perugia. E se è proprio vero, avrebbe pensato Henry James che per un americano è sempre pericoloso addentrarsi nelle viscele del passato, ma a parte inconvenienti del genere, al suo epilogo il viaggio in Italia assume un tono ironico e nostalgico anche per quanto concerne il mezzo di trasporto, con il supremo elogio della lentezza.